Di raddoppio ferroviario e dei problemi della linea ferroviaria Milano-Mortara-Alessandria si è parlato ancora nel convegno organizzato in biblioteca Mortara dall'Associazione dei Pendolari Mimoal, un tema, quello del raddoppio della linea, di cui si è parlato nell'ultimo anno per il progetto tra Albairate e Abbiategrasso, per cui i fondi stanziati dal PNRR non sono più sufficienti. Ecco allora che tra le proposte sollevate durante l'incontro sui 170 anni delle ferrovie Alessandria-Mortara-Novara e Mortara-Vigevano c'è quella di realizzare progetti di raddoppio fuori città, coinvolgendo anche le campagne, tutto questo per non intervenire su una viabilità urbana già complessa. In tal senso, considerando che tra Albairate e Abbiategrasso ci sono 11 chilometri di distanza, l'idea è di realizzare intanto il raddoppio nel tratto tra Mortara e Vigevano e di portarsi avanti nell'opera. Torna quindi in auge la proposta del raddoppio selettivo, nata dopo che non è andato in porto il raddoppio tra Mortara e Parona, per cui c'era già un progetto nel 2006, soprattutto per mancanza di volontà da parte delle istituzioni politiche, come ricordato dal Presidente dell'Associazione dei Pendolari Mimoal, Franco Agio. Assolutamente, ho ricordato anche la genesi della nostra proposta di raddoppio selettivo, perché qua c'erano gli interlocutori con cui avevamo allacciato i rapporti, come avete visto hanno confermato e quindi penso che il territorio, le istituzioni locali dovrebbero sposare questa proposta e farla propria e farla pesare ai tavoli superiori, intendo in Parlamento e al Ministero. Solo così forse avremo qualche possibilità di vedere il raddoppio. All'incontro sulle ferrovie in biblioteca Mortara erano presenti anche esponenti di RFI, Rete Ferroviaria Italiana e Regione Lombardia, secondo cui la priorità è invece incrementare il servizio sulla linea, tradotto più i treni all'ora, quindi maggiori corse disponibili per i viaggiatori sulla tratta Milano-Mortara. Oggi c'è un treno all'ora tutto il giorno e ogni mezz'ora solo nell'ora di punta, l'idea è di arrivare a un treno ogni mezz'ora tutto il giorno perché la frequenza è un elemento chiave perché il viaggiatore scelga di utilizzare il treno. La principale problematica risolta è la difficoltà di esercitare una linea proprio tutti i giorni, i singoli treni che hanno problemi dell'infrastruttura e che quindi arrivano in ritardo e quindi è il contrario dell'aumento di frequenza, il ritardo è quello che allontana il viaggiatore dalla linea. Noi abbiamo comunque acquistato i treni nuovi, quelli colorati di verde chiaro, sono tutti nuovi acquistati da Regione Lombardia, far funzionare l'infrastruttura non è un compito direttamente nostro ma è un requisito essenziale perché la ferrovia nel suo insieme funzioni.